Buonasera a tutti i telespettatori di Udinese TV e bentrovati a questa edizione del nostro TG dedicato alle cronache dal Veneto. In primo piano anche qui l'epidemia di coronavirus. Il Veneto non si attende novità peggiorative dal monitoraggio di questa sera che dovrebbe confermare la regione in fascia gialla. Questo nonostante il trend dei contagi sia tornato da una settimana a far preoccupare. Anche oggi una giornata sopra quota mille nuovi casi, 1174 i tamponi positivi e 23 i decessi registrati dal bollettino della regione. Per quanto riguarda i ricoveri stabili, le intensive, 134. Scendono invece le persone ricoverate nelle aree non critiche, 1197 i pazienti covid, 20 in meno. Insomma il Veneto con un RT a 0,97 a meno di sorprese non dovrebbe entrare nel gruppo di regioni che potrebbero da questa sera passare dal giallo all'arancione come Piemonte, Lombardia e Marche. Per la Basilicata si profilerebbe il rosso. Il presidente Luca Zaia nel consueto punto stampa ha parlato di una lenta timida crescita dei casi. L'incidenza dei positivi sui tamponi è al 3,05 per cento, però dopo molto tempo, ha sottolineato il governatore, è tornato ad aumentare il numero dei soggetti attualmente positivi, 23.439, 490 in più nell'arco delle 24 ore. Zaia ha accolto positivamente il richiamo fatto ieri all'Unione Europea dal Premier Draghi per chiedere un'azione più coordinata sui vaccini e alle case farmaceutiche rispetto degli accordi. È un appello autorevole, ha detto Zaia, che arrivando da una personalità come Draghi non può non essere rimandato al mittente, ma ha sostenuto che l'Europa ne esce debole da questa vicenda dei vaccini. È evidente, ha concluso Zaia, che altri paesi in giro per il mondo hanno fatto contratti migliori. E sempre per quanto riguarda la sanità, in primo piano in Veneto c'è anche la nomina dei nuovi direttori generali. 9 ULS, 2 aziende ospedaliere di Padova e Verona, l'Istituto Oncologico Veneto e l'azienda Zero. 7 manager sono alla prima nomina, 2 sono stati riconfermati nella stessa sede, 4 sono riconfermati ma nominati in una sede diversa dalla precedente. Abbiamo valutato 101 candidature attraverso una rigorosa procedura di legge, abbiamo costruito una squadra omogenea, ha commentato Zaia, con l'orgoglio di essere la prima regione d'Italia a nominare direttore generale un laureato in scienze infermieristiche, Mauro Filippi, ai vertici dell'ULS 4 Veneto orientale. Ma andiamo a vedere la squadra dei direttori generali della sanità veneta. All'ULS 1 Dolomiti è stata nominata Maria Grazia Carraro, all'ULS 2 Marca Trevigiana, Francesco Benazzi riconfermato, alla 3 Serenissima Edgardo Contato, all'ULS 4 del Veneto orientale Mauro Filippi, all'ULS 5 Polesana, Patrizia Simionato, alla 6 Euganea Paolo Fortuna, alla 7 Pedemontana Carlo Bramezza, alla 8 Berica Giuseppina Bonavina Maria, alla 9 Scaligera Pietro Girardi, all'azienda ospedaliera universitaria di Padova Giuseppe Dalben, all'azienda ospedaliera universitaria di Verona Callisto Bravi, all'Istituto Oncologico Veneto Patrizia Benini e all'azienda da zero, Roberto Tognolo. Il contratto dei nuovi direttori generali sarà un contratto valevole per tre anni più due con riconferma al terzo anno. Ma andiamo a sentire adesso proprio le parole di Zaia, il commento su queste nomine. Un'ottima squadra, lo vedrete, lo dimostreranno sul campo, donne in gamba, assolutamente professionisti e direi che ci sono tutti gli elementi per fare un bel lavoro. Abbiamo affidato le nostre aziende ospedaliere del Veneto, ma abbiamo affidato in mano il territorio e il futuro della nostra salute e direi che sono tutti professionisti che sono in grado assolutamente di far crescere ancora di più dal punto di vista sanitario il Veneto. Soprattutto medici è stata la volontà di insegnare ancora di più questo percorso che è quello delle professioni mediche e poi le professioni infermieristiche e quindi con il primo direttore generale d'Italia che viene dal percorso dell'infermieristico. Ai direttori uscenti un grande grazie perché hanno vissuto veramente un anno in trincea a dir poco. Ma sì, ho voluto ringraziarli anche perché ci lasciano per il pensionamento, ma vanno assolutamente ringraziati come ho fatto oggi, visto e considerato che hanno fatto crescere le nostre aziende ospedaliere, le nostre aziende territoriali, ma sono direttori che poi hanno anche vissuto questo anno tragico ed è bene a ricordare il grande lavoro ciclopico che hanno fatto. E adesso andiamo avanti parlando ancora di epidemia di coronavirus perché domani, sabato 27 febbraio, in piazzetta Donatori di Sangue a Mestre sarà possibile sottoporsi a tampone di terza generazione. Dalle 16 alle 19 infatti sarà allestito un gazebo dove operatori qualificati sottoporranno a test tutti gli interessati. Si tratta di un'iniziativa gratuita che coinvolge l'Ulss 3 Senenissima, l'assessorato regionale alla sanità e l'amministrazione comunale nell'ambito del progetto screening per il contrasto. In caso di positività il diretto interessato sarà subito informato e sottoposto a ulteriore tampone, stavolta molecolare. E la campagna di vaccinazione anti-covid si estende anche al personale docente e non docente dell'università. La Regione Veneto ha ufficializzato oggi le modalità organizzative dando il via alla campagna a partire dal primo marzo. L'Università Ca' Foscari di Venezia ha quindi informato il proprio personale della possibilità di prenotare la vaccinazione attraverso il sito web dell'azienda Ulss 3 Serenissima. verrà somministrato il vaccino AstraZeneca dedicato alla popolazione di età compresa tra i 18 e i 65 anni. E adesso apriamo la pagina della cronaca con un grave infortunio sul lavoro, un infortunio con esito mortale avvenuto questo pomeriggio a Concordia Sagittaria. Vittima un uomo di 45 anni del posto rimasto folgorato mentre stava potando degli alberi. L'uomo Davide Doratiotto, giardiniere di professione, ha toccato con la motosega una linea della media tensione, a dare l'arne il fratello che lavorava con lui. Alcuni alberi si trovavano a ridosso dei fili elettrici, toccati probabilmente con l'asta della motosega. Il 45enne è stato raggiunto da una scarica violentissima di 20.000 volt e per lui non c'è stato nulla da fare. Per garantire la sicurezza delle operazioni di recupero del corpo è stata interrotta momentaneamente la linea elettrica. Un medico di base del veneziano è stato indagato per truffa alla sanità pubblica in quanto avrebbe svolto continuativamente attività di medico legale, medico del lavoro ed altro a scapito dell'orario che doveva vederlo in ambulatorio, a disposizione dei pazienti per i quali aveva la convenzione con l'Ulss 3 Serenissima e 4 del Veneto Orientale. Sono state proprio le segnalazioni dei pazienti sui disservizi arrecati loro dal professionista a far scattare i controlli e l'indagine della Guardia di Finanza di Venezia. Gli accertamenti hanno consentito ai finanzieri di acquisire concreti elementi su un'attività di libero professionista svolta dal medico con impegno orario estraneo alla convenzione con le usle e notevolmente superiore a quello consentito dalla normativa di settore. Su richiesta della Procura di Venezia la Guardia di Finanza ha eseguito un sequestro preventivo di oltre mezzo milione di euro. Rimaniamo a Venezia ma dalla cronaca passiamo adesso alla politica perché è stata approvata la variazione di bilancio durante il consiglio metropolitano preseduto dal sindaco Luigi Brugnaro che si è tenuto questa mattina. Sentiamo. Si è svolto questa mattina in videoconferenza in collegamento dalla Smart Control Room del Tronchetto il consiglio metropolitano presieduto dal sindaco della città metropolitana di Venezia Luigi Brugnaro. Si è dato il via oggi ad una variazione di bilancio che autorizza l'utilizzo di maggiori entrate trasferite da ministeri e regione per il finanziamento di spese correnti e investimento. Alla città metropolitana di Venezia sono stati assegnati dalla regione 1.855.000 euro per il progetto Con Me che riguarda la convergenza digitale di 22 comuni dell'area metropolitana e che consiste nel trasferire alla società Venice SPA i data center dei comuni consentendogli di avvalersi di una nuova infrastruttura a norma e sicura con abbattimento dei costi per gli investimenti infrastrutturali. La variazione di bilancio prevede poi un'entrata da parte della regione Veneto di 3,2 milioni di euro da destinare alle aziende del trasporto pubblico locale, ACTV e ATVO, per far fronte al crollo dei ricavi dovuto dalla pandemia ed una serie di trasferimenti ministeriali per il finanziamento di progettazioni in materia di viabilità ed edilizia scolastica, di strutture sportive scolastiche ed edilizia patrimoniale. Infine sono previsti ulteriori trasferimenti da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti da destinare alla manutenzione straordinaria ponti e pavimentazioni stradali. E' abituata a convivere con l'acqua alta Venezia può stupire anche per il fenomeno opposto ovvero l'acqua bassa che come in questi giorni porta ai canali più piccoli in secca e scopre le rive del Canal Grande, un fenomeno favorito dalla situazione di forte e alta pressione in atto sull'Italia che accentua più la discesa che il rialzo del livello della laguna. Oggi in città la minima di marea è stata di 48 cm sotto il medio mare e per il fine settimana il centro marea del comune prevede misure di meno 50, livelli tuttavia non da record per Venezia. Nel gennaio del 2018 fu registrato un minimo di meno 66, mentre alla fine di febbraio del 2008 fu registrato il primato di meno 83 cm. In un anno difficile da un punto di vista economico ci sono anche dei settori che hanno tenuto anzi sono risultati in crescita come quello dell'editoria che ha chiuso il 2020 con un fatturato in crescita del 2,4%. Rimanendo in questo settore è di oggi la notizia che Grafica Veneta, una delle più importanti aziende del settore della stampa di libri in Italia e anche in Europa, ha annunciato di aver acquisito la quota di maggioranza di Lake Book Manufacturing, storica azienda attiva nella produzione di libri e leader nel mercato americano. Siamo orgogliosi di questa operazione, sottolinea Fabio Franceschi, presidente di Grafica Veneta che ha sede a Trebaseleghe in provincia di Padova, sono fiducioso a concluso perché il mercato statunitense è assolutamente strategico e ad alto potenziale per noi. Roberto Ciambetti è il nuovo coordinatore della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali e delle province autonome italiane. Il presidente del consiglio regionale del Veneto è stato letto quest'oggi con voto unanime a Roma all'assemblea plenaria della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome che si è tenuta presso la sede del consiglio regionale del Lazio. Dopo una trentina d'anni dunque questa carica ritorna in Veneto. Andiamo a Treviso adesso dove il centro studi di ConfCommercio ha divulgato un'analisi sull'andamento delle attività commerciali all'interno e all'esterno dei centri storici dal 2012 ad oggi. Per il Trevigiano le città interessate sono il capoluogo Castelfranco e Conegliano. Allora vediamo quello che è emerso. Uno studio di ConfCommercio mette a confronto il numero di attività all'interno e all'esterno dei centri storici in tre periodi temporali diversi dal 2012 al 2020. Nella marca le città monitorate sono state Treviso, Castelfranco e Conegliano. A fronte di un saldo negativo di esercizi commerciali registrato in Italia pari al 14 per cento il Trevigiano ha dimostrato una maggior tenuta con un dato pari a meno 12,8. Nella marca si è riscontrato nello specifico un calo minore nei centri storici che hanno visto il numero di negozi ridursi da 292 a 254, mentre quelli in periferia sono passati da 575 a 502. Tra le attività in maggior sofferenza sono rinvenibili esercizi legati all'informatica e alla tecnologia, mentre in controtendenza dal 2012 si è verificata una crescita del numero di bar e ristoranti, indipendentemente dal posizionamento cittadino. Le ricette individuate da ConfCommercio per salvaguardare le attività consistono nella rigenerazione urbana, intesa come processo globale che investa enti pubblici, associazioni, privati e proprietari immobiliari e nella riconversione di spazi, flessibilità, co-working, co-housing e innovazioni delle piccole e medie superfici di vendita, ovvero contaminazione tra merceologie e brand, servizi post vendita, negozi sempre più specializzati e dotati di un canale di e-commerce. Torniamo alla cronaca adesso, un arrestato, due indagati, 419 persone controllate, 86 gli agenti polferi impegnati, coadiuvati a Mestre e a Portogruaro, anche dal personale del reparto Prevenzione Crimine della Questura di Venezia e da un'unità cinofila della Polizia Locale di Bibione. 19 gli scali ferroviari interessati, dove i controlli sono stati estesi anche sui bagagli depositati e su una cinquantina di bagagli a seguito dei viaggiatori. E questo è il bilancio complessivo dell'attività straordinaria svolta ieri dal personale del comparto della Polizia Ferroviaria per il Veneto nel corso dell'operazione Strade Sicure, promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria. Durante i controlli sono stati utilizzati metal detector portatili e smartphone che consentono la lettura ottica e la verifica in tempo reale dei documenti di identità, agevolando e velocizzando le procedure di identificazione. Per quanto riguarda la persona arrestata, si tratta di un cittadino di nazionalità nigeriana di 25 anni che è stato fermato nello scalo ferroviario di Porto Gruaro. È stato accusato di traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti della polfera hanno notato il giovane che è sceso da un treno proveniente da Mestre alla loro vista. Ha cercato di allontanarsi frettolosamente per eludere il controllo. E questa mattina c'è stato un incidente tra mezzi pesanti attorno alle 7 sulla A4 nel Bresciano. Il sinistro è avvenuto tra Ospitaletto e Castegnato. Due mezzi coinvolti, uno trasportava glicerina, l'altro pellet. Uno dei due mezzi ha preso fuoco ma fortunatamente non ci sono stati feriti a seguito di questo incidente che ha causato comunque la chiusura dell'autostrada. E adesso ci spostiamo a Bassano del Grappa e cambiamo decisamente argomento perché a pochi giorni dall'inizio del festival della canzone italiana di Sanremo andiamo a sentire le reazioni dei bassanesi a proposito della partecipazione al festival della canzone italiana di Francesca Micheline, nativa proprio di Bassano del Grappa. Sentiamo. Sai che c'è una ragazza di Bassano che va a Sanremo? Certamente, la Francesca Micheline, che è una nostra concittadina, fa enormemente piacere per noi. E farà tipo per lei oggi, no? Eh sì, anche perché io sono coetaneo e conosco molto bene il papà perché io sono appassionato di calcio, il papà era un buon centravanti e per quello, anche per questo dico. E anche perché è una ragazza in gamba, ha una bellissima voce, ha fatto dei duetti strepitosi e secondo me andrà alla grande. Hai conoscenza che a Sanremo ci andrà una ragazza di Bassano? Sì, sì, sono a conoscenza, anche perché la conosco di vista molte volte, l'abbiamo vista spesso anche qua in giro, anche prima di diventare appunto famosa. Sì, Francesca Micheline. Esatto, e farà tipo per lei, immagino? Anche. Sì, la conosco, la Francesca Micheline, che è quella che ha vinto X-Factor. Farà tipo per lei? Beh sì, essendo che sono vicino di Bassano, sì. La conosco non tanto bene, però conosco di vista la Francesca, i genitori. E farà tipo per lei, immagino? Certo, perché no? Beh, certo, una nostra compaesana, chiaramente sì, siamo contenti. Sì, ho saputo recentemente della Francesca. E farà tipo per lei, immagino? Sicuramente sì. Adesso andiamo a scoprire assieme quali notizie leggeremo domani sulle pagine del Gazzettino che troveremo in Edicola. In collegamento con noi abbiamo Ario Gervasutti. Buonasera Ario, come sempre a te la parola per illustrarci le notizie più importanti di domani. Buonasera, buonasera a voi, buonasera ai vostri telespettatori. domani ovviamente l'attenzione è ancora, non potrebbe essere altrimenti focalizzata in particolar modo sulla situazione del Covid, della pandemia, perché si stanno impennando in maniera davvero molto molto pericolosa i contagi. I dati non sono assolutamente positivi, la Lombardia tornerà in zona arancione da lunedì e venendo più vicino a noi ovviamente la parte che ci interessa di più, il Veneto, è davvero a un passo dal ritornare in zona arancione. Se questo trend, cioè il trend attuale degli ultimi 3-4 giorni, dovesse continuare è molto probabile che l'annuncio che la prima settimana di marzo il Veneto rimarrà in giallo potrebbe venire sostituito da un annuncio in senso contrario nella settimana successiva. Chiaramente stiamo ragionando in termini di previsioni e di evoluzioni delle curve, quindi tutti quanti speriamo che sia solamente un passaggio intermedio, così una fiammata che non incida poi in maniera consistente. Però l'allarme è davvero alto e di questo allarme se ne è parlato e questa è un'altra notizia che sviluppiamo ovviamente nella giornata di oggi quando il governatore Zaia ha annunciato e presentato i 13 nuovi direttori generali delle USL più l'azienda Zero, complessiva dell'azienda Zero ovviamente, che sono stati subito investiti da un compito principale, cioè fare di tutto per abbassare, abbattere il rischio della pandemia. Questo è il compito principale che dovranno affrontare questi 12 direttori generali che avranno in mano la sanità del Veneto in un momento estremamente complicato e difficile. Sono persone che hanno delle caratteristiche poi che noi domani racconteremo, in alcuni casi davvero peculiari. Per esempio, uno su tutti, c'è il primo infermiere che dopo un lungo corso professionale e l'ingresso ai vertici delle varie strutture dove ha lavorato, è stato scelto dal governatore Zaia per guidare l'azienda sanitaria del Veneto orientale. Quindi questo è uno delle tante scelte, in alcuni casi sorprendenti e forti, che ha fatto Zaia sul fronte della sanità. Fronte della sanità che vicino a noi si arricchisce della scelta dell'Austria di prendere contatti con la Russia per importare e anzi addirittura produrre in Austria il vaccino russo Sputnik, rompendo così il fronte che fino adesso era stato solamente minato dall'Ungheria, il fronte compatto dell'Unione Europea. A questo punto anche l'AIFA è uscita allo scoperto, l'Agenzia Italiana del Farmaco è uscita allo scoperto affermando che anche l'Italia, se volesse, potrebbe rivolgersi a vaccini non previsti in questo momento dall'ente europeo, dall'EMA, l'ente validatore europeo. Uscendo dal tema del Covid, della pandemia, vi segnalo infine solamente un seguito della vicenda che abbiamo raccontato, che ha riguardato tre politici, in particolare la senatrice Fregolente Trevigiani, che sono nell'occhio del ciclone perché hanno partecipato ai rimborsi previsti in virtù del Covid per dei centri estivi o per i rimborsi per l'acquisto di computer. Per cifre, se vogliamo, abbastanza irrisorie, stiamo parlando di 250 euro e poco più, però il fatto che amministratori pubblici intervengano per ottenere questi rimborsi che erano destinati ai loro cittadini ha fatto storcere il naso a molti e anche allo stesso Matteo Salvini che, questa è la notizia di oggi, si è interessato al caso, ha preso informazioni sul caso perché gli amministratori in questione sono amministratori della Lega. Queste e altre notizie le potrete trovare domani con il Gazzettino in Edicola, ovviamente, oppure già dalla mezzanotte per chi ha l'abbonamento digitale. Grazie, come sempre, a Dario Gervasuti per queste anticipazioni. Noi adesso siamo in chiusura e allora vi lasciamo, come sempre, alle previsioni del tempo. Grazie per la vostra attenzione e a tutti un buon proseguimento di serata su Udinese TV. Amici di Udinese TV che ci seguite dal Veneto, ben ritrovati da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Nella giornata di sabato il bel tempo continuerà a insistere su tutto il Veneto grazie all'alta pressione, anche se dal pomeriggio giungeranno masse d'aria un po' più fredde da est che porteranno un aumento della ventilazione di Bora lungo le coste e un primo calo delle temperature in montagna, ma a seguire anche sulle zone di pianura da domenica. Per quanto riguarda sabato, invece, le temperature massime in pianura raggiungeranno ancora i 16-17 gradi, quindi sempre al di sopra delle medie di questo periodo, ma appunto con la nuova settimana tenderanno a calare su valori più consoni per questo periodo. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Grazie a tutti.